Buonasera a tutti e tutti, grazie mille Luisa per la presentazione, ciao Alessandro, è un piacere averti qui e grazie per aver risposto positivamente al nostro invito. Piacere, torno qua dopo quasi 30 anni, sì certo, sono molto contento. A volte ritornano. Esatto, grazie. Ecco, Mordi e fuggi, il romanzo delle BR, autore Alessandro Bertante, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, candidato al premio Strega 2022, quindi è un grande onore averti qui, lo ripeto, ma vorrei partire proprio dal titolo che tu hai utilizzato, Mordi e fuggi. È una citazione di Mao Tse Tung, utilizzata dai primi nuclei delle Brigate Rosse, che rende molto bene l'idea di quel periodo, di quel contesto che più che mero sfondo al romanzo è la vera e propria miccia di una molotov interna a tanti ragazze e tanti ragazzi che in quegli anni vivevano i propri vent'anni. Siamo nel 1969, quel 12 dicembre scoppia una bomba alla Banca dell'Agricoltura. Subito dopo un caos, la pista anarchica, l'arresto di Pinelli, la sua defenestrazione spacciata per suicidio, la fibrillazione, quell'aria ansiogena ma eccitante di star per vivere uno scontro. Ecco l'ansia anche per me. Una paura mista ad adrenalina fumante. Il protagonista di questa storia è Alberto Boscolo. Ha 21 anni, un'estrazione medio-borghese, università è scritto solo sulla carta. È un giovane che vive quegli anni crescendo in consapevolezza politica, votato ad essere un militante del collettivo metropolitano milanese, a far picchetti i volantinaggi dinanzi alle fabbriche, ma al contempo a vivere anche le sue esperienze relazionali, alle volte vehementi, con la sua famiglia, con i suoi amici, con la ragazza. Alberto è un personaggio che nel corso del romanzo evolve, come se fossimo dinanzi a un romanzo di formazione. Il lettore potrà dunque innamorarsi per il suo essere idealista rivoluzionario, ma anche un po' infastidirsi perché alle volte appare gretto, dedito al troppo alcol stravecchio o anche alla masturbazione. Un Alberto che viene umanizzato facendolo uscire dal laurea di combattenti armato per la rivoluzione, apparendo per quello che veramente è, e cioè un ragazzo. Un ragazzo che vive il suo turbamento giovanile, che diviene anche turbamento sociopolitico, rischiando l'arresto, a volte la morte, sicuramente sporcando la sua immacolata coscienza e fedina, buttandosi a capofitto per un'idea sicuramente più grande e più consolidata di lui. In questo libro lo scrittore e il protagonista sono saldamente legati dalla scelta, a mio dire, per nulla azzardata, dell'utilizzo della prima persona singolare. Nel libro, dunque, i pensieri di Alberto, le sue paturnie, perfino le bestemmie, divengono vivide, tangibili e si ha l'impressione di leggere un racconto estrapolato di primo pelo da un testimone oculare. E invece non è così, dato che Alessandro Bertante, l'autore, tu nasci proprio in quegli anni lì che narri. Allora la domanda diviene d'obbligo, partendo proprio dalle fondamenta di questo romanzo, come si è svolto il tuo lavoro di ricostruzione storica, di ricostruzione biografica, da dove sei partito, quali sono stati gli studi che hai attraversato? Ma, grazie di essere qua tanti, mi fa molto piacere. No, io sono partito dalla domanda, c'è le motivazioni perché un ventenne nel 1969 trovasse la forza, l'ardire e l'ambizione, ambizione assoluta, di fare una guerra rivoluzionaria. Perché loro, le prime brigate rosse, ma anche quelle dopo, si definivano combattenti rivoluzionari e volevano fare una rivoluzione armata. Siccome non furono pochi, questa domanda mi rovellava da tanti anni, la ricerca della motivazione. Io adesso nel 1970 a Milano faccio la rivoluzione. Non è una domanda facile da rispondere e non è neanche una domanda che si può concludere in modo sbrigativo. Il tentativo era sincero però, quindi da quel momento, scopertomi che il tentativo era sincero, perché leggendo i libri degli autori, leggendo i libri dei protagonisti, leggendo i libri di Curcio, di Franceschini, di Moretti, eccetera, è evidente che il tentativo fosse sincero. Allora ho iniziato a pensare al clima politico di quegli anni, a come potesse nascere un humus culturale politico che creasse una determinazione così feroce e ambiziosa, perché questo erano all'inizio le bergate rosse. Ovviamente sciolto il dubbio che volevo conoscere le motivazioni, ho scelto la prima persona, giustamente perché entrando nel protagonista potevo capire meglio il suo percorso politico, ma anche il suo percorso umano per arrivare a questa scelta. Da lì è nata una storia che è una storia solamente milanese però, perché non tutti sanno in realtà che le bergate rosse che nei primi tre anni nascono a Milano, nei primi due anni e mezzo anzi, dal 70 alla prima ritirata strategica del maggio del 72 dopo l'omicidio di Calabresi, che peraltro come si sa non uccidono le bergate rosse, è una storia semplicemente milanese. Questo per uno scrittore era molto importante perché c'era un'unità di tempo e di luogo. Potevo circoscrivere il romanzo dentro una prima persona, non avevo bisogno di un narratore onnisciente che poi andasse a Roma, un altro che andasse a Torino dove aprivano le altre colonne, dove nascevano le altre colonne a lotta armata. Ed è comunque un'esperienza peculiare, un'esperienza molto legata alla fabbrica, molto legata ai quartieri. All'inizio le Brigate Rosse non erano il gruppo più estremista della galassia straparlamentare, ce n'erano molti, non erano il gruppo più estremista, erano molto determinati, però avevano anche delle peculiarità dal punto di vista della comunicazione. Loro rivendicavano tutto, qualsiasi cosa, mentre altri gruppi non lo facevano. Peraltro l'omicidio di Calabresi non è ancora stato rivendicato dopo 50 anni, quindi era anche una strategia politica diversa. Quindi questa peculiarità mi sembrava molto interessante e questa capacità immaginifica anche che avevano, soprattutto nel nucleo fondatore, di fare la rivoluzione, di fare la lotta armata in Italia nel 1970 mi sembrava un tema straordinariamente affascinante. Così è nata l'idea del libro, ho iniziato a studiare, però era un periodo che conoscevo bene, perché io mi sono laureato con Giorgio Galli che ai tempi era lo storico delle Brigate Rosse più importante, fra l'altro è morto un anno e mezzo fa e mi è spiaciuto che non abbia potuto leggere il libro. Avevo scritto un saggio su Renudo che era ovvero il più importante giornale underground degli inizi degli anni 70 e quindi che trattava anche di BR, pubblicò anche le BR, quindi era un periodo che conoscevo molto bene e ovviamente dovevo conoscerlo meglio. Quindi nata la determinazione sulle convinzioni delle BR ho iniziato il lavoro di approfondimento storico, che peraltro nel libro non si vede, che è lasciato un po' in sottotraccia, però c'è. Ecco Alessandro Tunarri, una Milano tra fine anni 60 e inizio anni 70, che è una città anch'essa in divenire, sia in senso spaziale che chiaramente sociale e politico. Parli di occupazioni, di comuni, delle intimidazioni effettuate dalle BR a carico dei manager delle aziende sfruttatrici, processi del popolo, boicottaggi, anche delle rapine per l'approvvigionamento dei compagni. Inoltre tra la rosa dei personaggi all'interno di questo libro fanno Capolino, Renato, Margherita, Alberto, il comandante Osvaldo, tutti i chiari riferimenti a Renato Curcio, Maracagol, Alberto Franceschini e chiaramente Feltrinelli. Parli di tutti i avvenimenti realmente accaduti, di tutti i personaggi realmente esistiti. La potenza di questo libro secondo me sta proprio qui, nell'aver condensato storia e storie facendolo sotto forma di romanzo, che chiaramente per antonomasia è molto più fruibile di un saggio. Sebbene è un tentativo apprezzabile, volevo farti una domanda un po' forse provocatoria. Non credi che una storia che diventa romanzo può apparire agli occhi di un lettore magari poco accorto come una mera finzione per motivi di trama. Beh, ogni trama ha una finzione, quindi non vedo la contraddizione, anzi ne sono consapevole da romanziere e quindi sì, c'è un rischio che corro ma non è che mi interessi francamente dal punto di vista né narrativo né politico. Il percorso romanzesco era un percorso per me inevitabile, i disagi sono scritti tanti, anche se devo dire che su quell'arco di tempo lì dal 70 al 73 c'è un po' un vuoto anche saggistico. Il caso Moro fa da magnete di tutte le informazioni, sia narrative che soprattutto saggistiche, però è talmente torbido, è talmente immischiato col trame nere, P2, servizi segreti che non lo volevo neanche vedere da lontano. Quindi mi interessava il mito fondativo a me, perché di questo si tratta di mito fondativo, perché le Brigate Rosse all'inizio degli anni 70 erano famigerate e avevano un anone mitico intorno. E qua ritorniamo alla domanda, mi ero dimenticato di rispondere prima, Mordi e Fuggi. Mordi e Fuggi, frase di Mao, era scritta su un cartello che le BR misero all'ingegner Macchiarini dopo il sequestro Lampo, Mordi e Fuggi, nulla resterà impunito, colpirne uno per educarne, cento, gli fecero una Polaroid che andò in prima pagina su tutti i giornali, soprattutto sul Corriere della Sera, perché aveva la Luger di Franceschini puntata qua. La prima volta che si vede una pistola in Italia, è considerata quella foto l'inizio della lotta armata in Italia, in realtà c'erano già state le cose, a livello mitopoietico sicuramente è quella la foto. Mordi e Fuggi, nulla resterà impunito, questa era la propaganda del fatto che facevano le Brigate Rossi. La propaganda del fatto significa tu in fabbrica mi denunci per sciopero selvaggio dieci operai, io ti faccio saltare la macchina a te infame che hai denunciato, boom. Tu fai la spia su chi sono i leader del sindacato di base, i CUB che furono alla base anche della fondazione delle BR, erano quasi tutti operai a parte Curcio e Franceschini. Io pubblico nel mio secondo volantino l'elenco dei crumiri e degli aguzzini in fabbrica con il numero di telefono e l'indirizzo di casa. Questo creava un mito proletario all'interno delle fabbriche di Milano che era innegabile. Le prime BR sono talmente legate ai quartieri che nel 71 quando al 25 aprile del 71 da Lorenteggio a Milano che sono due vie di quartieri popolari tutte le case popolari hanno alle finestre la bandiera con la stella a cinque punte scritto Brigate Rossi che erano già in clandestinità in quel periodo. Quindi il primo periodo delle BR è veramente diverso da quello successivo in cui c'era una clandestinità strettissima, c'era il partito armato, c'era la lotta contro la Sim, poi attacco al cuore dello Stato, erano molto legate a un contesto di fabbrica, molto legate ai sindacati unitari ai CUB, ai comitati unitari di base della Pire della Sim Simens, erano molto legati ai quartieri. Lavoravano all'Orenteggio, lavorarono all'Ambrate, lavorarono all'Ortica, lavoravano a Quartogiaro, anche con gli emigrati appena arrivati, quindi il loro tentativo era di essere dei Robin Hood per certi versi. Attenzione, se andate a vedere i primi volantini sono scritti con un linguaggio semplicissimo, colpirne uno per educarne cento, non è uno slogan, è proprio un invito e tutti questi primi volantini hanno questo linguaggio qui, molto basso per essere riconosciuti dagli operai. I volantini dal 75 in poi sono con un marxismo-leninismo terzo internazionalista terribile, terrificante, non si capisce niente e sono anche molto involuti, i primi no, i primi hanno una potenza mitopoietica incredibile e questo volevo che uscisse dal romanzo, volevo che uscisse forte dal romanzo perché raccontava anche di un'altra città. Allora, non poteva accadere che a Milano questa cosa qua, io ho abitato da giovane in Piazzale Lotto che è dentro, per chi conosce Milano, la cerchia della 91, è appena dentro, la cerchia della 91 diventa il centro della periferia. Negli anni 70, dentro la cerchia della 91, nel mio solo quartiere c'erano tre grandi fabbriche, c'era l'Alfa Romeo, l'Alemagna e la Sid Siemens. Nell'80 di queste tre fabbriche non c'era più niente, quindi quella geografia urbana dell'inizio degli anni 70 non c'è più stata, quella geografia urbana era anche una geografia sociale e politica che non c'è più stata, un soggetto rivoluzionario che viene piallato via dal postmoderno in qualche modo, da quello che sarà chiamato postmoderno negli anni successivi, però allora quei tre anni diventano fondamentali dal 69-72 perché sono tre anni embrionali di qualcosa che non nascerà mai e che negli anni 80 era già passato. Ritornando al tuo protagonista Alberto, tratteggiato come un giovane colmo di sprovedutezza anche, che sogna di diventare un po' come i Tupamaros rivoluzionari, che si interroga spesso sul significato della vita e provvede sovente a collocare al suo centro l'ideale rivoluzionario. Senza questo sarebbe colto dallo sconforto, forse dal nulla. Allora perseguire quell'idea diviene l'unica spinta che smuove ad andare avanti. Ecco, secondo te siamo davanti anche a un paradigma rovesciato e cioè non più trovare un senso per combattere, ma forse combattere per trovare un senso? Sì, sì e no. Perché comunque loro volevano fare la rivoluzione armata. Su questo non ci deve essere nessun dubbio, anche se le prime BR sono mitopoietiche, sono più in qualche modo selvagge, in senso buono, sono i Robin Hood, comunque loro volevano fare la rivoluzione armata. La rivoluzione armata o non è, peraltro, uscendo da schemi abbastanza consolatori degli ultimi 30 anni, perché la rivoluzione francese c'è un blocco borghese che toglie il potere ai nobili e al clero armato con la ghigliottina. Se una classe sociale vuole prendere il posto di un'altra, l'altra non la farà mai passare con grazia, la deve prendere con la forza e quindi la rivoluzione o è armata o non è. Chi vuole citare Gandhi lo faccia, ma non è questo il caso. E quindi sì, volevano fare la rivoluzione armata e quindi c'era una componente individuale che era anche un modo per capire la propria vita e andare verso la lotta armata. Però lui fa questa scelta in modo consapevole e poi quando si rende conto che i suoi presupposti politici sono completamente sbagliati, perché non c'è un soggetto rivoluzionario abbastanza forte da prendere il potere in modo armato, molla. Ma non è pentito, il protagonista non si pente mai. Tra l'altro il pentimento è molto cattolico, è molto cristiano e lui vede anche questo pericolo nelle BR che c'è troppo cristianesimo, c'è troppo cattolicesimo, lui che è un laico, è camussiano, per certi versi questa cosa lo infastidisce, però non si pente, però si rende conto che avevano sbagliato, semplicemente non c'era il soggetto politico necessario per fare la lotta armata, ma se ci fosse stato lui l'avrebbe fatta. Quindi sì, c'è una componente esistenziale che gli dice cerco di trovare una mia via attraverso la lotta armata, però lui ci credeva veramente nella lotta armata, volevano fare la rivoluzione armata in Italia. Molto semplicemente, chi dice il contrario mente. In alcuni episodi del romanzo tu narri di alcune forzature che vengono utilizzate al fine anche di esacerbare un po' gli animi dello scontro o anche attizzare il fuoco del conflitto. Faccio un esempio, più che altro per far capire a chi non ha letto il libro, un esempio classico, morte di Feltrinelli, quasi tutti i compagni sono consapevoli che è accaduto un tragico incidente. Nonostante ciò c'è chi vuole sfruttare questo accaduto per consolidare un proprio ideale rivoluzionario, anche per convincersi, cazzo, sì scusate, sono nel giusto, andiamo avanti, è successo questo, bisogna quindi andare. Ecco, nell'immaginario collettivo, forse a causa anche di trasposizioni televisive un po' banalizzanti, un brigatista viene sempre rappresentato come monolite, no? Solido, pronto a tutto e soprattutto senza alcun rimorso. Ecco, facendo un'operazione nostra di disincanto, quanto diviene umano e anche meno mostruoso, meno deviante, raccontare di questo attanaiamento del dubbio, di questo rischio di cedimento, anche nell'animo del brigatista. Ah no, lui crolla, lui come tutti i ventenni è fragile, è dinamico, è forte nell'azione, quindi nei rapini di autofinanziamento, negli attentati contro gli aguzzini di fabbrica è eccezionale, è uno tosto, è un duro, però poi in clandestinità da solo nell'appartamento è un ventenne che crolla, clandestinità non è facile per nessuno, immagino. Se sei poi solo in casa e hai qualche dubbio, i dubbi si amplificano, poi lui giustamente come dicevi prima, beve, si masturba, però se un ventenne non beve e si masturba, meglio che faccia un altro lavoro, no? Cioè nel senso non la vedo come una cosa eccezionale. Poi figurati chiuse in casa e lui ha un crollo emotivo a un certo punto poi, perché forse arriva la lotta armata troppo presto, forse si rende conto già subito che non ci sono i presupposti politici. E poi c'è questa cosa che dicevi prima di Feltrinelli. Adesso se uno va a Milano e va alla fondazione Feltrinelli, sembra che Feltrinelli abbia scoperto Pasternak e che fosse amico di García Márquez. In realtà Feltrinelli è stato il primo e più importante e inimitabile punto di riferimento delle Brigate Rosse fino alla sua morte. Era un combattente rivoluzionario, è morto da tale, in modo maldestrissimo, con un candelotto qua sotto, che gli è caduto, è esploso e gli sono partite entrambe le gambe. Le Brigate Rosse lo sapevano benissimo come fosse morto perché quello che era con lui poi divenne un BR a sua volta, Gunther si chiamava, fra l'altro presero anche con sé parecchi infiltrati già dalla polizia. La prima grande rettata purtroppo arrivava da un gruppo dei Feltrinelli perché si fidarono di Feltrinelli che però non controllava bene la sua organizzazione. Feltrinelli era un combattente rivoluzionario, però aveva una visione, aiutò tantissimo le BR, soprattutto sui documenti falsi come vivere in clandestinità e quant'altro. Era un uomo ricchissimo, ma non per la casa editrice che era appena nata, ma perché erano i più grandi produttori di legname d'Europa, avevano mezza carinzia. Lui attraverso queste sue zone austriache, arrivava in Cecoslovacchia, aveva rapporti con i servizi segreti, quindi della Cecoslovacchia che ai tempi era nel blocco oltre alla cortina di ferro, blocco sovietico, quindi aveva contatti internazionali, era un uomo di straordinario fascino, eppure aveva una visione politica diversa dalla loro, loro non si fecero mai dare i soldi ad esempio da Feltrinelli, perché lui aveva l'idea della lotta partigiana, della rivoluzione tradita, mentre loro no, loro pensavano di non andare in montagna, loro pensavano, e questa è un'intuizione formidabile di Curcio, lo dice da subito, che la lotta era nella metropoli o non era, quindi il loro punto di riferimento erano i Tupamaro, i Uruguayani, e quindi o metropoli o niente, la lotta è qua, non nei bricchi dell'Appennino, e questo li divideva tanto, eppure Feltrinelli quando morì creò un disastro all'interno dell'organizzazione delle BR che non aveva più quel punto di riferimento lì, poi è vero che l'opinione pubblica, il famoso accetto medio riflessivo di sinistra, tentò di deviare verso i servizi segreti deviati, la CIA, i nostri deviati, poi i servizi segreti non sono mai stati deviati, erano i servizi segreti e basta, la morte di Feltrinelli, però questo si faceva anche per questioni strumentali, in realtà chi doveva sapere lo sapeva, potere operaio, lavoro illegale, il gruppo clandestino di potere operaio sapeva benissimo che Feltrinelli era morto in un incidente di guerra da combattente rivoluzionario, infatti fu l'unico che lo scrisse peraltro, fu l'unico, però già la morte di Feltrinelli crea dei dubbi ad Alberto, crea dei dubbi perché la gente muore, durante le rivoluzioni la gente muore e questa cosa lui prima l'aveva solo idealizzata ma non ci aveva pensato e questo è l'inizio dell'incrinarsi del suo, quello che sarà poi un crollo emotivo che porterà a una posizione politica. Volevo chiederti se dei brigatisti ancora viventi hanno letto, conosciuto un po' del tuo romanzo, se hanno espresso anche nei tuoi confronti qualcosa, non so se si sono magari ritrovati. No, non lo so, magari sì ma io non lo so, nessuno mi ha contattato, in compenso mi ha contattato il giudice Salvini, quello della strage di Piazza Fontana, quello che è arrivato a un millimetro alla strage di Piazza Fontana, ha voluto fare una tavola rotonda su Corriere della Sera, io lui non ho storico perché era convinto che il protagonista fosse mio padre, infatti mi ha fatto domande da giudice al quale ho risposto con una certa vaghezza, però no, le BR no, non si sono mai, sono tutti vivi meno Maracagola e no, è morto anche Prospero Gallinari, che però nel romanzo fa una parte veramente limitatissima, mentre invece Curcio, Franceschini e Moretti ci sono e c'è anche Mara, no, non si sono mai avvicinati, io devo dire con molto pudore nei loro confronti perché comunque sono in vita e la loro gioventù avevo anche qualche timore di violarla, infatti tutte le parole che dicono i protagonisti sono tratte dai loro memoir, perché non volevo mettergli in bocca cose che non avessero detto, però ad esempio la scena di come nasce il nome Brigate Rosse, te lo volevo chiedere perché è meraviglioso, cioè Curcio nel suo memoir fa quattro righe e io invece ci faccio un capitolo intero, però io faccio lo scrittore e Curcio faccia il rivoluzionario, nel senso sono due misteri diversi, anche lui fa lo scrittore però, sì, ma non scrive romanzi, ecco, il romanzo ha di per sé l'idea del racconto mitopoietico, cioè il nome in realtà nasce perché loro andavano in macchina verso Piazzale Loreto e parlando in macchina fra di loro dicono ma qua non c'era la volante rossa perché dopo verso Lambrate c'era la volante rossa e dicono sì c'era la volante rossa però non è che ci possiamo, perché cercavano un nome, cercavano un nome per le rivendicazioni semplicemente, come fanno i ragazzi, chiunque fa, un nome più bello nell'altro è come i gruppi punk, dice sì la volante rossa però non ci possiamo chiamare nello stesso maniera e l'altro disse non mi ricordo chi, però ci sono anche le Brigate Garibaldi che per noi sono importanti perché la brigata dà senso non di esercito ma dà senso di una roba spontanea, fulminia, efficace eccetera e allora Maracagolda dietro disse Brigata Rossa e tutti si bloccarono e dissero eh no questo è il nome, all'inizio era il singolare, poi lo cambiarono al plurale perché al singolare sembrava fossero in quattro invece erano di più insomma, dava un senso di moltitudine ecco. Grazie per aver raccontato di questo episodio che è stato il mio preferito, no spesso ci ritroviamo ad esempio in radio a fare riunioni interminabili, come chiamiamo questa trasmissione? Io un po' ho ritrovato anche la stessa un po' cretineria tra ragazzi, chiamiamola così, chiamiamola così. Il più vecchio era Cuccio, aveva 26 anni, figura tutti gli atti ne avevano 20 quindi vedi un po' te. Veramente scritto bene quindi bello. Volevo parlare di un altro tema che è il tema dei topoi in realtà, dei luoghi che attraversi a Milano. Cioè quasi tutti o forse alcuni ancora restano a Milano. Volevo sapere se sei ritornato ad esempio alla Comune, in questo palazzo praticamente occupato, oppure se esiste anche questa bottega di antiquario, le varie osterie che questo Alberto che beve tanto vino stravecchio attraversa? No, lo stravecchio è brandy però. Non sono un alcolista. No, quella a Milano non esiste più, non c'è quasi più niente, proprio è completamente stata piallata prima dagli anni 80 e poi diciamo dalla speculazione di Lizza che non ha mai fin a Milano. Ci ho detto Milano è molto più bella adesso di prima, questo è indubbio proprio dal punto di vista architettonico, dal punto di vista della vivibilità contemporanea, però la città, quei luoghi lì non ne rimane uno, Rattazzo ha chiuso, la Comune dove vivevano c'è ancora ma non mi hanno fatto entrare perché è occupata da quelli del cantiere, io sono andato con il giornalista del Corriere, hanno detto no non entra i giornalisti qui, non hanno capito un cazzo come al solito e non mi hanno fatto entrare. Invece no, dei luoghi del romanzo c'è giusto l'orenteggio. Ragazzi, negli ultimi 50 anni Milano è una città che se adesso vogliono comprare i diritti di Mordi e Fuggi e spero che qualcuno lo faccia, è un romanzo storico. Io sono arrivato secondo alla finale del premio Manzoni per il romanzo storico, il primo ha vinto Caccucci e sono contento perché è giusto, ma Pino, ma gli anni 70 il romanzo storico è passato a un'area geologica dal 71 ad adesso, Milano lì non esiste più, non esistono le fabbriche, non esiste il tessuto urbano, non esiste neanche il tessuto sociale e quindi il lavoro di ricostruzione è stato faticoso ma molto bello e però è stato anche in qualche modo viziato dai miei ricordi di bambino. Quindi io avevo due anni nel 71 e me la ricordo quella Milano lì dopo, il 74-75 e quindi è un po' però dentro una nuvola onirica del fatto della mia immaginazione di bambino concorre. Infatti c'è una scena in Piazza Duomo che ha un aspetto quasi sospeso perché ci sono le luminarie del Duomo, magari qualcuno se le ricorda, qualcuno della mia età che tappezzavano Piazza Duomo con i neon, che non ci sono più neanche quelle, che però con la nebbia, altra cosa che Milano non c'è più, erano molto suggestive. Quindi nel romanzo si respira per certi versi un'area nostalgica ma non è fatta apposta, è perché è mediata dal mio ricordo di bambino. Partendo dai riferimenti dei luoghi ai riferimenti letterari, io ho apprezzato tantissimo che tu abbia citato più volte Camus, che è il mio scrittore preferito quindi è stato bellissimo rinvenirlo. Ma Alberto legge anche Marcuse, chiaramente tutti gli scritti rivoluzionari, è appassionato di Che Guevara e di tutti i rivoluzionari combattenti. Volevo chiederti un po' se questi riferimenti della letteratura, oltre che delle biografie dei combattenti, l'hai ricostruite per pensare è un ventenne di quegli anni, il ventenne di quegli anni leggeva questa roba qui o è una tua invenzione? I ventenni di quegli anni leggevano quella roba lì, ma non le BR. Questa è una licenza che mi sono preso io perché sono un grande fan dell'Orego, l'Oma e Revolte di Camus ed è comunque il suo persiero peritivo, però non è assolutamente vicino a quelle delle BR che erano marxisti, leninisti puri, anzi terzi internazionalisti, anche se avevano, e Curciolo dice, il concetto dell'autonomia operaia ce l'avevano, ce l'avevano forte, è da un concetto più moderno. Lui no, lui ha quasi uno sguardo libertario, però gli piace delle BR questa capacità che hanno dell'azione diretta, cioè di fare, quindi è atipico Alberto Boscolo dentro il paesaggio politico delle BR, che attenzione però è già atipico di suo. Le BR all'inizio sono composite, hanno il gruppo che arriva da Trento di Curcio e Cagol, più intellettuale, l'università negativa di Trento, dove si è anche a Rostanio e altri, eccetera, quindi più legato anche alle tempere del 68, poi hanno un gruppo di marxisti, leninisti puri che arrivano dall'appartamento di Reggio Emilia, sono Franceschini, Gallinari e gli altri, storia del PC, anche più retrivo per certi versi, e poi hanno la grande mole dei comitati oritari di fabbrica di Milano, della Pirelli, della Sissime, che invece sono operai politicizzati, tostissimi peraltro, poi c'è Moretti, attenzione, Moretti è una mosca bianca, perché Moretti, prescindere le polemiche successive, Moretti, all'inizio è uno dei fondatori del CUP degli stipendiati, degli impiegati, che era una cosa rarissima, infatti era tenuto in grande conto per quello, perché usciva la lotta armata, l'idea di rivoluzione dalla classe operaia e andava a prendere anche i colletti bianchi. Lui era diplomato, nonostante arrivasse da una famiglia poverissima, perché la contessa Mazzanti viene da ammare, quella di Fantozzi, però no, non mi ricordo il nome di questa contessa, gli pagò gli studi a Milano, perché erano delle robe arcaiche del Novecento che succedevano ancora negli anni Sessanta e lui si diplomò quindi, ma era di famiglia poverissima e però comunque faceva parte del primo comunitato unitario di base degli stipendiati della Pirelli, quindi aveva un ruolo, della Sissime, aveva un ruolo fondamentale e quindi è molto composita, perché poi ci sono anche i proletari dei quartieri, tipo i fratelli Morlacchi, che non sono colti ma sono ultra politicizzati e hanno rapporti con la malavita, da cui arrivano le prime pistole, perché i revolver arrivano dalla malavita, mentre i mitra arrivano dai partigiani, attenzione, tutti. E però anche Milano, qui ha una peculiarità con fronte a Roma, dove la malavita è sempre guardato un po' a destra, Badaliana e quant'altro. A Milano, soprattutto Giambellino, Lambrate, lo stesso Valanzasca peraltro, la malavita erano tutti figli dello stesso proletariato, avevano un fratello che faceva l'operaio, l'altro fratello magari faceva il rivoluzionario, il fratello rivoluzionario chiedeva le armi al malavitoso, le prime pistole arrivano dalla leggera, la bassa, ma la vita milanese. Quindi anche qui ha una storia più diversificata, complessa a livello politico, quella delle prime BR. Poi da 74 in poi cambia tutto. Tu narri dunque di questi tre anni, dal 69 al 71, e siamo anche lontani da quel PC del compromesso storico. Nonostante ciò, le Brigate Rosse nutrono una sorta, non dico disprezzante disprezzo, ma quasi, nei confronti del PC. Però c'è un'ambivalenza. Da un lato c'è un po' di disprezzo, dall'altro lato, nei confronti magari dei compagni che a loro volta sono stati partigiani, c'è del rispetto. No, c'è un'enorme ambivalenza. Non ci sarebbe mai stato il Partito Armato in Italia se non ci fosse stato un PC al 30%. Le BR guardavano al PC, molti arrivavano al PC come soggetto rivoluzionario. Già questo li differenzia dall'autonomia, siamo a Padova, non posso non parlarne, dalla seconda metà degli anni 70 che vedevano nel PC invece un nemico di classe. Le prime BR vedono nel PC un soggetto rivoluzionario e anche lì sbagliavano. Perché fai un partito armato solo se hai una possibilità reale di rivoluzione, quindi devi avere un partito comunista con un certo tipo di seguito. Se il tuo partito comunista è al 3% non fai la rivoluzione armata, fai degli atti terroristici così. Loro però non si consideravano terroristi, non sono mai stati terroristi. Loro erano combattenti rivoluzionari. Ancora adesso, Curcio, chiunque lo può dire delle BR. È una differenza sostanziale perché il combattente rivoluzionario ha una prospettiva di rivoluzione. Il terrorista ha la possibilità al massimo di fare un gesto esemplare, capite? Un gesto simbolico, ma alla fine a livello sociale non cambia niente. Quindi no, l'ambivalenza era noi accusiamo il PC certo di essere riformista e quant'altro, però il PC c'è e ce l'abbiamo solo noi in Europa. Noi possiamo fare la rivoluzione perché c'è il PC. Questo è un dato fondamentale. Voglio parlare di donne nel tuo romanzo. Allora abbiamo chiaramente Mara Cagol da un lato, ma dall'altro lato abbiamo anche altre donne che vengono rappresentate, tra cui la madre di Alberto, la fidanzata di Alberto, che sono un po' tratteggiate come sì di sinistra, ma che non riescono a fare il passo più ampio. Chi hanno paura, che si dimostrano magari recessive, che dicono no, non è la strada giusta. Come hai deciso anche di rappresentare queste due figure di donne completamente differenti, anche se accomunate da un ideale? Sono le due fidanzate fondamentali, sono un po' la coscienza politica del romanzo, perché sono quelle che hanno una visione anche un po' più realistica. La prima, perché appartiene a una grande famiglia borghese, è la 68 classica della prima ondata e l'università, intendiamoci, nel 68 la facevano solo i borghesi, poi dopo c'è stata l'università di Massa, quindi grandi famiglie borghesi milanesi con il figlio che fa il 68 e già nel 77 è già rientrato, è già rifluito, quella è storia data. E quindi lei dal punto di vista sociale ha un altro sguardo e quindi anche dal punto di vista politico si rende conto che è una lotta avventuristica quella delle Brigate Rosse. La seconda invece, più complessa, è una militante rivoluzionaria anche lei, con lei condivide la formazione delle BR, però poi si rende conto che non ha una strada senza uscita, quindi sono più lucide le donne del romanzo, sono meno legate anche a un'idea fisica, maschia, dello scontro. Perché attenzione, lo scontro era fondamentale, c'era una mitologia della violenza, c'era una mitologia della violenza in quanto strumento politico, loro fanno rapine di finanziamento, fanno saltare, fanno bombe, fanno cose, non uccidono ancora ma poi lo faranno, ma è la violenza però è la base di tutto. Però c'è una narrazione in Italia, secondo me molto ingannevole, che ci fanno vedere gli anni 60 gioiosi, in qualche modo aperti, solari, le pinne, la maschera agli occhiali, quant'altro, 60 balneari e gli anni 70 di ferro e fuoco. E questa è la mistificazione, perché tutti i miti degli anni 60 muoiono ammazzati. Muoiono ammazzato Che Guevara, muoiono ammazzato Martin Luther King, muoiono ammazzato Malcolm X, muoiono ammazzati anche i due fratelli Kennedy che proprio dei rivoluzionari non solo, ma tutta la mitologia degli anni 60 muoiono ammazzata. La guerra del Vietnam, tutte le guerre in Sud America e quant'altro, Cuba, tutto è negli anni 60 e però ce li raccontano come il periodo del bit e quant'altro, finalmente scopriamo le vacanze estive. Sono vere entrambe le cose, però a livello politico, gli anni 60 sono anni violentissimi e non è vero che gli anni 60 sono gli anni dell'immaginazione degli anni 70 sono gli anni del piombo. Gli anni 70 sono figli degli anni 60 e sono figli di quell'idea violenta della lotta politica degli anni 60. E questa è la grande mistificazione un po' anche sessantottina che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni. Ecco, anni violentissimi al cui interno ci sono dei giovani che abbracciano dunque un mitra per fare la rivoluzione, ma dei giovani che magari al di là dell'ideale rivoluzionario, come dicevi tu prima, magari sono cattolici, sono cristiani, come riesci anche a spiegare questa contraddizione interna? Io sono consapevole che posso ammazzare, ma ho dei valori cristiani. Ah no, non la spiego, neanche il protagonista la spiega. Il protagonista infatti è laico, è ateo, materialista e quando vede che Maracagol è cattolica, ma tanti sono cattolici, mentre Curcio era valdese, però comunque cristiano, questa dicotomia lo infastidisce, lo infastidisce molto perché la trova falsa ed è uno dei primi momenti di rottura, però è anche una base forte delle prime BR, l'elemento del cattolici del dissenso era molto forte ed è una peculiarità italiana questa, ad esempio in Germania non esiste, neanche in Francia, è una nostra peculiarità della formazione politica rivoluzionaria, quella del cattolicesimo del dissenso. Ovvio che ci sono nella figura di Cristo stesso degli elementi rivoluzionari indubitabili, sull'uso della violenza invece dovremmo discutere un po' di più. Io parlerei con te per sempre Alessandro, te lo dico perché è fantastico, però vengo all'ultima domanda e poi magari se abbiamo del tempo apriamo a qualche domandina dal pubblico. Il romanzo delle BR lo scrivi proprio così e immagino anche che grazie a tale forma che ho utilizzato puoi raggiungere un pubblico un po' più giovanile. Secondo te le attuali generazioni cosa possono pensare di quei giovani di 50 anni fa e se ti aspetti magari una comprensione, una fascinazione o addirittura una strenua condanna? Ma io purtroppo per fortuna faccio professore universitario e sono certo del fatto che dei ventenni non arrivi proprio l'oggetto libro, quindi non mi pongo il problema. L'oggetto romanzo a un ventenne a qualcosa tipo come un po' i vampiri che entrano in chiesa, quindi insomma lo dico a mio malgrado e lo faccio lo scrittore, sarei contento fosse il contrario. Ogni tanto c'è il ventenne che arriva brillante e anche molto affascinato dalla storia, però i miei lettori sono i miei coetanei, sono i 40, 50, 60 anni. Vorrei dirvi il contrario, sarebbe bello e sarebbe anche molto consolatorio, ma non è così. I ventenni che invece arrivano, anche i trentenni però, non solo i ventenni, i trentenni che arrivano a mordi e fuggi, arrivano quasi sempre, se non sono dei militanti politici per la loro storia, in un totale vuoto informativo, perché è il classico periodo storico che è già storico ma non è coperto dagli esami, dai programmi delle superiori, o te ne parlano in famiglia o tu non accedi a niente, ma non accedi neanche agli anni 60, va detto. Quindi è una storia completamente quasi fantasy per loro che ci fosse un gruppo armato a Milano, si chiamava Brigate Rosse, faceva saltare le macchine dei crumiri e tutti li conoscevano in fabbrica, eccetera. Ha il che del romanzo tolchegniano degli esordi, insomma, è qualcosa di completamente incomprensibile. Guardate la realtà di adesso, che è una realtà compiutamente distopica, prima di noi parlavano di distopia. Io l'altro giorno sono andato in metro e non ci andavo da anni perché sono uno snob e non mi piace. C'erano 200 persone, tutte in fila, tutti col palmare e non si guardavano. Questa è un'immagine distopica degli anni 80, delle distopie anni 80 classiche. Cioè, ovvero, non dobbiamo scomodare il grande fratello di Orwell, basta vedere qualsiasi film di Cronenberg, guardatevi lì, o di Carpenter anche. Di quel periodo le distopie le vedevano così adesso. Quindi noi viviamo una distopia adesso, siamo dentro una distopia, abbiamo avuto anche la pandemia, che ce ne frega. Abbiamo una guerra novecentesca pure, che ce ne frega. Parlando di nucleare addirittura. E quindi, il problema se i ventenni leggeranno il mio libro dentro questa distopia, mi sembra veramente accessorio in questo momento storico, veramente. Lo dico con grande serenità, ma anche con grande determinazione. A me dispiace del tuo pessimismo. No, è basato sui fatti però, è basato sui fatti. I miei studenti l'oggetto libro è un oggetto alieno, alieno totalmente. Non si approcciano, ma non so se sia un bene umano, è una fase transitoria questa, però è un dato di fatto. Quindi, ovviamente qualche ventenne l'ha letto, però se dicessi quanti sono i ventenni che leggono Morvi e Fuggi sono il 3%, il 90% hanno la mia età o 40 anni. Diciamole le robe una volta, però, perché se no non si va avanti neanche nella compressione del quotidiano. Spero magari che questa sera riuscirai a essere smentito. Quello che spero anch'io, certo. Ecco, grazie Alessandro. Magari se c'è qualche ventenne in sala che vuole smentire Alessandro e il suo pessimismo cosmico sarebbe importante. Ma no, vorrei che fosse un po' realistica la cosa, perché se no viviamo di consolazioni. Non ne abbiamo proprio bisogno, ma ecco, no. Grazie, grazie a essere qua. Dopo 30 anni torno al Pedro. Grazie, grazie. Allora, veramente grazie. Avevo 20 anni quando venivo qua. Ecco, chiaramente questo non è un addio. Tra un'ora, più o meno intorno alle 6 e mezza, anche un po' dopo, avremo Vuming con la presentazione dell'ultimo libro UFO 78, quindi vi invitiamo a restare qui a Sherwood Festival. Grazie per averci seguiti. Vi ricordiamo che presto, dalla settimana prossima, potete trovare la registrazione di questo talk su Sherwood.it, il canale YouTube. oltre che il report su Global Project. Grazie mille e a presto. Ah, il libro di Alessandro è al banchetto lì per chi volesse acquistarlo e farselo firmare. Grazie. 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 Grazie.